allora stiamo scendendo a valle in questo momento siamo sul percorso della memoria che ci porterà giù come dicevo prima forno d'allone è un sentiero bellissimo in alcuni punti stretto però ben tenuto ovviamente ci sono anche delle persone a piedi quindi fate molta attenzione in questo momento ci siamo fermati alla grotta ricovero dove venivano praticamente ricoverati i feriti delle trincee che è questa ed infine ecco le trincee della grande guerra